Martina Caironi, vedere quella medaglia, la prima che arriva per l'Atletica Italiana Rios, cosa vuol dire? Vuol dire portare a casa la pagnotta. Duro lavoro per questa prima medaglia che sta ad argento. Ma che è una medaglia poi che fa rumore, eh? È una medaglia che tiene un suono che è diverso da qualsiasi altra medaglia, così mi hanno detto. E sembrano i granelli della sabbia, della spiaggia dove andrò domani, per riposarmi. Per riposarti poi, perché tra poco ci sarà un altro impegno di quelli molto pesanti. Il 17, cioè tra una settimana esatta, saremo qua a parlare di un'altra gara, che è la mia gara preferita. E su cui conto molto. Ma per ora, diciamo che ho questo a farmi compagnia questa notte. Ho questa medaglia. Un boccalucco. Pepi.